Sopravvissuti e sopravvissute, benvenute al 24esimo episodio di Warhammer 40.000 Inquisitor. Vi invito a mettere mi piace, commentare, condividere il nostro canale e seguirci sui nostri social di Instagram e Facebook. Il mio a parlare è un problema. Niente, a parte che sembro... ho preso l'armatura nuova e c'ho lo scudo perenne ma sembra un pirla. Niente, dobbiamo tornare sulla Martire per vedere di entrare nel bunker segreto di sto rompianime di Uther. Allora, il mio primo incontro con Costerman fu un preoccupante, per non dire altro. Ho appreso un terribile segreto sul mio passato e devo accettare che prima della mia volontà operativa di pulizia mentale abbiamo condiviso la stessa idea e ho fatto lo stesso percorso. E ora, dopo aver stabilito il fragile impegno, ci stiamo dirigendo verso l'Inner Sanctum di Uther insieme. Temo che solo la morte o la folia ci aspettino lì. Che culo. Eccolo lo schermenco. Ah, ma c'è la vita. No, prima non c'è l'alto, non ce l'avevi. Ah, ma c'è... Madonna. Non c'è l'alto, Inquisitor. Come hai trovato il Martire? C'è l'alto per me? Non c'è l'alto che non c'è l'alto, non c'è l'alto. Non c'è l'alto che non c'è l'alto che non c'è l'alto. Non c'è l'alto che non c'è l'alto che non c'è l'alto. Ma c'è molta gente, come al solito. È arrivato che ho cambiato l'arma. Non ho messo la pistola. Però questa pistola qua è forte, carazzi. Cosa c'è la pistoia? Cosa c'è la pistoia? Cosa c'è la pistoia? Cosa c'è la pistoia? Si sembrava una marcia demonica, fuso con xenosi e simboli imperiali. Uther chiamò loro imperiore. Studiò le dimenticazioni e le macchine arcane di una civilizzazione e li combinò con le pratiche sanctori. La pistoia ha scocato la essence di diamoni. Quindi non possono tornare a la guerra per rafforzare. Uther chiamò che era di uscara il suo senso, anche da minioni di Chaos. Mi sento molto molto vicino a la Heresi. Cosa c'è? Musiamo combattere con l'acqua. Tu ti ha insegnato. E non sono ancora la persona giveria. Eh, ho capito, io avrò fatto quello che ho fatto in un passato, ma io sono diventato una brava persona civile Oddio, civile, non so Ho furia di far così, stavo morendo Non vorrei lanciarla lì, ma almeno mi libero di quei cazzoni là Figa, vi sta tirando la parate con quel cazzo di cannone, figli di puttana Sì, adesso ogni tanto tiro su quel naso, ma fra fazzoletti e raffreddore sono incasionato E io sono critanded E io sono critanded Ma ti ricarichi la vita a te o... E' un problema Ma perché vai di là da solo? Ma perché sei stupido, Crosterna? E caricate un po' la vita Figo, questo qua non mi ci arriva a fine partita, lo so già Ho trovato alcuni vecchi cittadini molto vecchi cittadini qui Tutti dovrebbero essere i sei poteschi modificati forniti dal numero 69 La mia risposta è sì Con un paio di divertimenti pratici Il compito più importante è ora però quello di acquistare prove dei suoi rapporti con Un abominio ai cloni Il potere del soggetto alfa Potrà anche aver Accecato alcuni nostri fratelli Nel circolo interno Ma un patto... Ma un patto riempio come quello... Come questo distruggerebbe qualsiasi persona sana di mente Tanto per cominciare Questo esperimento era corrotto I risultati ormai non possono essere recuperati Che l'impuretrab mi ricorda di tutti noi Non ci resta che opzione Ah, ok, si capisce un cazzo come al solito Hai mai scoperto la verità su Utheri segreti? Ho solo ascoltato rumori La vera risposta è qui Io so che potrebbe salvare l'imperio dell'uomo Dalle tanti di caos E che Uther Tiberius rischia la comunicazione Della inquisizione per creare questo uomo Quindi... Non lo sto capendo Tiberius ha cercato di fare un'arma Per salvare l'impero Dal caos No, alla fine mi sa che ho fatto la cazzata A mio parere Poi, oh Magari scopriamo che sto dicendo Catti cazzate io Io di qua Non so se devo andare di qua Però... Crosterman secondo me ci lascia la vita qua Appena di arrivare in fondo Ma questo sentore No, no, no Te ci muori prima E' abbastanza convinto Poi mi dice Andarti qua Scusami No, no, no E' abbastanza convinto E' abbastanza convinto Il Titale di Statut Il mondo deve essere diactivato usando due terminali diversi in diversi paesi, allo stesso tempo. Ziberius era davvero abbastanza protettivo dei segreti. Procedi al primo cogitatore, deve essere vicino. Ho trovato l'altro. Anche perché mi sta facendo triggari il cervello quello ammolio. Ho notato. Tipo degenerata, direi. Ma ce n'è uno che ogni tanto si rincoglionisce. Vabbè, penso che io devo andare di qua. Mi do anche un po' di vita, al massimo le scorte le prendo su dopo. Ho perso una, cambiando l'armatura. Ho perso un po' più di una. Me ne ho avuto un po' di più. Ho avuto un problema con le tribune ferali. Ma sono vicino. Certo. Oh oh, ma come hai fatto a non essere tutta sta vita, oh, faccia di culo Mamma mia, mi sto morendo perché porca di quella... Ma mi sono incastrato nel nulla C'è poca vita Ok, ho sistemato Meglio eliminare, tolina tutti i nemici e poi sistemiamo quello lì Ok Prima liberiamoci di tutto il casino che c'è attorno Poi sistemare lui e minore i miei problemi dopo Ah, è la toretta che ti dà la vita, eh Bastardo, adesso come la mettiamo? Eh, faccia di culo Apriamo forzieri Ah, ok E avrebbe un po' di scorte dopo, mediche, vanno indietro Sistemo il cogitatore, prima Eh, così facile Ah Così? Si finisce la missione così? Quindi Io pensavo di aver fatto un passo avanti Nella ricerca No, non perdiamoci in tempo Andiamo subito avanti Andiamo, facciamoci subito un'altra missione Ah